Nella giornata di domani, in occasione della prima serata di apertura al pubblico della cosiddetta Basilica, il tempio più antico dei tre monumenti d'orici di Pestum, dalle ore 21 alle ore 22, si terrà un evento di musica elettronica tra i templi, iniziativa inclusa nel biglietto di ingresso al parco acquistabile presso il museo, dalle ore 19.50 al costo di 4 euro, gratuito fino a 18 anni e ridotto del 50% dai 18 ai 25 anni. Per il primo fine settimana di luglio il Mibact celebra la festa di musei, un grande evento nazionale che ha come tema il rapporto tra musei e paesaggi culturali. Sabato 2 luglio alle ore 20, presentazione della mostra Possessione tra Fugamenti e Falsi di Antichità a Pestum, a cura del direttore del parco Gabriel Zugtrigel. Alle ore 19.30 e 20.30, visite guidate e deposite del museo, a cura della dottoressa Marina Cipriani, già direttrice del museo dell'area archeologica di Pestum. Dalle ore 19.30 alle ore 22.30, ultimo ingresso alle ore 21.50, il biglietto di ingresso al parco è di 1 euro, compreso di museo e area archeologica. Gli orari della mostra sono da lunedì al venerdì, dagli ore 8.30 alle ore 19.30, ultimo ingresso alle 18.50 e ogni sabato fino al primo ottobre dagli ore 8.30 alle ore 22.30, ultimo ingresso alle 21.50. Il costo del biglietto è di 3 euro solo per la mostra, di 9 euro per il museo e l'area archeologica e del costo di 10 euro per la mostra, il museo e l'area archeologica. Domenica 3 luglio, prima domenica del mese, ingresso gratuito per tutti. Inoltre al museo sono previsti dei laboratori didattici gratuiti per bambini e ragazzi, Eracle che fatica a essere un eroe, alle ore 11, alle ore 15 e alle ore 17.